Il sindaco Pogliese aspetta ancora una risposta dal governo centrale. Lo spettro del default per il comune di Catania è dietro l'angolo e coinvolge non soltanto i dipendenti attualmente senza stipendio ma anche i fornitori e i servizi stessi erogati dall'amministrazione comunale. Ma adesso scende in campo anche la Confcommercio Catanese che in una lettera aperta al Premier Conte parla senza mezzi termini del rischio per la tenuta del sistema sociale del territorio perché come viene sottolineato è molto ampia la platea e l'entità dell'esposizione dei soggetti coinvolti dalle conseguenze del dissesto. Quindi urge un intervento del governo nazionale perché ne va della tenuta economica e sociale del nostro territorio. L'allarme lanciato da Confcommercio Catania prosegue parlando di una situazione definita esplosiva. Le imprese rischiano il dissesto già nei prossimi giorni. Un dissesto finanziario determinerà una perdita per tutti i creditori del comune e le imprese coinvolte sono tante così come al momento è cospicua l'esposizione di ogni singola impresa nei confronti del comune e in caso di dissesto finanziario le imprese avranno una decurtazione del credito verosimilmente vicina al 60 per cento che in termini assoluti significa anche alcuni milioni di euro. In questi casi dice la Confcommercio è certo il fallimento delle imprese costrette a licenziare. L'urgenza dell'intervento per l'organizzazione è dettata oltre che dalla mancanza di liquidità del comune che non può più fare fronte all'ordinaria amministrazione anche dal fatto che le imprese hanno utilizzato tutte le linee di credito loro concesse dal sistema bancario. Insomma la richiesta all'intervento del governo con una procedura a scaioni e sottoposta a rigide verifiche in termini di trasparenza per la Confcommercio deve essere accolta al più presto. Grazie. 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 Grazie.